Si chiama fisico questo qui, questo è Giubbotto, lui dice che io mi manca il fisico Ascolta, a me manca Giubbotto Mi sembra, mi sembra, va bene Allora, finalmente è accaduto, doveva venire dalla Spagna che ci hanno detto che anche grazie al Saraceno, anzi soprattutto grazie al Saraceno siamo conosciuti Noi finora si faceva i casti, ecco qua Sì, ma sai perché? Perché loro sono venuti ad Anghiari e ad Arezzo e hanno visto questo, però hanno detto anche che a noi ci manca un sito o qualcosa dove si dice tutte le nostre bellezze che abbiamo Allora se ti ricordi io con il ponte della Gioconda avevo tentato di fare qualcosa, no? Sì E quindi di fare questo sito L'orecchie, mi sa che qui a Arezzo ci sento un poco Perché? Perché a Arezzo fare il sito lo fanno loro a Ficolpuzzo Ah, lo fanno, ah, è quel sito E il sito è quello Allora, bisogna sviluppare la cultura, il culturismo Il culturismo Ah, il culturismo quello c'è? No, andare in cura ai turisti Capito il culturismo Allora, io pensavo che il culturismo voleva dire La tartaruga La tartaruga si è provata a gollare Mi è venuta la tripa A me è venuta la tripa Ascolta, però, allora lanciamo un appello in spagnolo Ai nostri colleghi E io non sono capace a dire in spagnolo Guarda, parlare in spagnolo è semplice Metti un S davanti e un S di dietro Un S davanti e un S di dietro Prova a dire gatto Sgattos Ho imparato a parlare in spagnolo Allora, colleghi dell'Espagna Vi attendiamo Noi Arezzo Venite in tanti In tanti Parecchio ma parecchio 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 E soprattutto Con tantos soldos Soldos da spiendere in questa città Per il sito Ci organizziamo E appena cacatos addosso Spesarchiamas Sentirete quesitos Vamos 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 Vamos